lo vedi che questo è riuscito ad entrare guarda questa è riuscita ad entrare dentro il coso coltivato si sta mangiando tutto hanno buttato giù era elettrificato ci sta distruggendo tutto si mangia e distrugge tutto quelli erano convinti di aver fatto l'orto averlo elettrificato così questi non entrava la lama arriva anche l'altra si mangiano tutti in un secondo beh ragazzi quindi per il momento non c'è una nuvola in cielo e sembra una giornata spettacolare quindi siamo molto fortunati ci andrà molto molto bene oggi facciamo una passeggiata nel nella direzione opposta e troviamo il primo paesetto che si chiama clavon quattro case eccolo qui clavon qui hanno dedicato addirittura una statua forse avrebbe essere protetti chissà beh adesso ragazzi facciamo una dronata perché la giornata lo richiede guardate che meraviglia e così all'improvviso ecco la dronata che non vi aspettavate dronata del secolo dato torre di controllo richiede autorizzazioni da non tu devi richiederle allora richiedo autorizzazione per il volo permesso accordato e allora si decolla quindi casi scherzi ciao 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 Grazie a tutti. Guardate a questi paesetti, sempre spettacolari, pieni di fiori, bellissimi. Comunque questo posto per fare barbecue e per trascorrere un ferragosto è fenomenale. Guardate che cura anche le campi da volley, da calcetto avanti, qui forse addirittura da tennis ed è già pieno ovunque di persone, è strapieno. Forse con i 7 euro ti danno anche una cassetta di legna se non erro. E qui siamo venuti ieri ed è tutto prenotato. Ancora tavoli ovunque, è laghetto. Comunque è davvero splendido, è davvero splendido. E poi che giornata ragazzi, non c'è una nuvole in cielo assurdo. Le previsioni mettevano temporali. Non ne azzeccano una per fortuna. Vedete tutti i tavoli e i barbecue prenotati. Sicuramente qui non ne rimarrà neanche uno tra poco. Fuoco acceso e birre in mano aperte. Allora, da Champlong, Valle d'Aosta, un saluto al nostro nuovo amico Roberto che ci ha raccontato la sua emozione. Grandi ragazzi, Valdostani doc. Ragazzi, noi stavamo organizzando tutto, prendo tendalino, tirando fuori le sedie. Sono arrivati Roberto, Daniela, Rebecca e Miran. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. 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 Sveglia con la GoPro? Io mi sveglio così con la GoPro in mano e saluto sempre così. Ciao Robi. Ciao bella. Ciao. No, te l'ho portata. Ciao caro. Allora? Adesso la vediamo. Vediamo, 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 vediamo chi c'è. Sempre col dittino in bocca. Sempre col dittino in bocca. Ciao bella. Allora, siamo arrivati dal tuo innamorato? Ci arriviamo? Sì. Io ti saluto quando scendi, non c'è la prima persona che vede lui, però vabbè. Ciao caro. Ma tu vuoi filmare a me? Sicuro? Ma perché devo filmarti? Sì, poi tanto tagli... Allora, adesso inauguriamo... No, adesso prendiamo due tappetini così possiamo salire e scendere dal camper senza fare casino. Ma come sfarfalla il monitor dove c'è la crepa, visto che si è tutta rotta, incredibile. Come mai? Allora, vediamo. Tappetini. Qua hai già fatto anche la dronata? Sì. Ma non si rinviano, sarà la mia. La vedremo tra sette mesi. Ma non si rinviano, non si rinviano. Di più. Di più. Di più, perché adesso sono andate in ferie. Sai che mia moglie odia essere ripresa? È spenta! Non è vero. È spenta! Amore, è spenta! Cugiardo! È spenta! Cammina da dietro! No, dietro no! Fai la sfilata un attimo! Sì! No, non ti riprendiamo! Questo andrà tutto sul tubo. Tutto! No! È impossibile, me lo prometti! No, no, no! Adesso ragazzi, tiriamo fuori il nuovo barbecue, ancora da inaugurare, ma vedete? Ma quindi è proprio vergine, vergine, eh? Vergine, vergine, da scartare adesso come un cioccolatino. Fai anche l'unboxing, quindi su YouTube adesso fai anche l'unboxing. Quindi prenderai anche dei like per questo barbecue, lo sai che era un altro barbecue? Per quel barbecue che li ho sempre presi, credi? Ma no per quello, per quello che ci metteva sopra. Mmm! Vediamo! Ragazzi, guardate la gentilezza di Roberto, hanno portato una marea di roba, vabbè, qua era pieno anche di birre che adesso ho messo in frigo, birre di tutti i tipi, messina, corona, poi un paio le ho messe anche in frizzeric, knusa, poi hanno portato pane, patatini, olive, grissini, torte, un'altra borsa a frigo piena di carne. Grazie ragazzi, è troppo gentile. Adesso ho tolto la pasta al forno, l'ho messa già fuori perché era in frigo, poi la scaldiamo piano piano dopo. Allora, assaggiamo il salame premiato addirittura secondo premio nella bergamasca, premiato con il secondo posto della bergamasca, corretto? Allora, nonostante mi hai rovinato il coltello, un brindisi lo faccio con te, va bene? Salute Cin Cin, il primo brindisi di Ferragosto! Salute a tutti! Salute, saluto Cin Cin, grazie ragazzi! Salame superlativo, peccato che vabbè il coltello si è rovinato ma lì Roberto che... Ma siamo in sei, siamo in sei, non in trentasei! Ragazzi, il nostro Ferragosto procede bene, tranquillamente, qualche birretta fresca, compagnia, quattro chiacchiere, due cazzate, una busta di patatine fatte in casa da Roberto che sono la fine del mondo, dice che si è alzata alle 5 del mattino per farle. Ma a che ora ti si è alzato per fare le patatine? Alle tre, ho capito alle cinque, fantastico, non le avevo mai mangiate. E sono fritte con l'olio, l'olio l'abbiamo fatto ieri sera. Poi Alice ha portato un sacco di formaggi qua dell'alpeggio, buonissimi, adesso apriamo una icnusa ambra limpida, l'ha portata calda ma io l'ho rinfrescata. Quindi tutto il merito è il mio, non è che l'ha comprata. L'apriamo col coltello patata, sai, perché se lo apri col coltello giusto... Allora, tu stai già bevendo, quindi me la bevo io tanto. Oh, comunque il formaggio salame è pieno, le patatine sono vuote. E sono quelle che sono piaciute di più di tu. Fai sempre dei figuroni, ma non ti conosco bene, ma sono sicuro che fai dei figuroni. Assurdo, la qualità prima di tutto. È arrivato il momento di accendere il nuovo barbecue. Ragazzi, oggi lo sperimentiamo, eh? Nuovo di pacca, l'altro l'abbiamo crepato e finalmente possiamo arrostire di nuovo. Così grosso. 12 e 14. Inauguriamo, anche la tua faccia? Il nuovo barbecue. No, mamma mia. Inauguriamo il nuovo barbecue, quindi mangeremo per le 5 più o meno. Adesso ti stupisco. Guarda i bambini come ti guardano stupiti. Miri, Miri, ma come è contenta della sua griglia nuova, ma va che goduria. Ci puoi contare anche perché la vecchia mi ha dato molta soddisfazione. Qualche fettina, qualche bistecca, qualche pancetta, qualche pesce l'abbiamo arrostito. Eh, direi più di qualche, secondo me, eh? Dov'è la Celso? Vediamo cosa ha portato Roberto ad arrostire, eh? Prosciutto cotto. Prosciutto cotto, lo puoi anche tirare. Toh. È per Miranda. Poi abbiamo bistecchine sottilissime di suino, pollo, pancetta, salsiccia, bistecche di maiale, e sotto c'è pancetta forse, sì. No, altre bistecche. Altre bistecche di capocollo. Che ne sono cose che è? Bene, poi abbiamo noi anche un rotolo di salsiccia. Grazie a Dio, anche oggi. Oh, mamma mia. Lo chiediamo per il tasto perra. Bastone andato. Amore di papà, c'è il prosciutto cotto, vieni da papà, dai. Ti piace il prosciuttino? E l'hai perso lì nella griglia. Che ne so, che lui, che ne so. Perché poi l'altro freddo di noi ci sono le ragoste, tutte le altre cose. Rana pescatrice, c'è un sacco di roba buona da me. Cazzate, basta. Occhio che mi mette l'ago pur, qua sono pericoloso perché mi sagliela la faccia. Un grande impegno. Sto giro non mi parla più per sei mesi, sicuro. Mi cancella anche il numero da telefonica. No, ti aspetto in Sardegna. Ormai ti aspetto in Sardegna. Mi aspetta in Sardegna. Ti aspetta in Sardegna. Non sembra una minaccia. Ma non è un invito. Non è un invito. È una minaccia. È una minaccia, cazzo, arriverà in Sardegna. Avvisami quando arriverà in Sardegna che io vado in Albania. Immagino. Se no, più lontano ancora. Anche in Marocco, secondo me. E io quando li vedo qua lì. Dovresti averlo. Ma vogliamo fare in garage. Con le minacchina, con la farina gialla. Abbiamo fatto le patate. Le fornette. Bagno, bai, bai. Bagno, bai. Bagno. Stanco morta. È buona? Stanco, eh? Stanco. E la pasta al forno già ti è costata poco, lo stesso? Eh, sì, però... Ore ieri sera, eh? Ma le patate mi hanno sfinito, sai, una per una. Patata. L'olio per friggerle. La pasta al forno, la grigliata. La grigliata. Il salame. Tutto tu hai fatto anche questa volta. Tutto tu hai fatto. E mi mettete anche a solo mangiare. Eh, non ti hanno dato neanche un goccio di birra per aiutarti a superare questi momenti difficili. Niente, mi ha lanciato coltelli addosso. Grazie, grazie mille per essere qua con noi. E grazie davvero. Grazie. Siediti. Ale, dove hai trovato il posto? Ragazzi, tanti auguri. Buon Ferragosto. Cicina a tutti. E soprattutto grazie veramente per essere qui. Io lo dico col cuore. Non è che lo dico perché è un la GoPro accesa. Grazie per essere qui. Adesso quando la speglie da coltello, basta. Vai Roby, dovevi fare l'applauso per Rita? Ti ho dato 20 euro. Che complimento. Solo 20? Per questo, per questo applauso. Allora, un applauso da 20 euro facciamo. Brava Rita! Basta, basta, basta. 20 euro, basta. Con 50 centesimi facciamo la ora. Il mare. Ragazzi. Lo riconosce il bergamasco? Cin, cin. Adesso stiamo brindando con un Sant'Orsola Prosecco. Salute a tutti e buon Ferragosto. Buon Ferragosto. Buono. Grazie sempre per il coltello. Allora, stiamo passando all'acquavite di Cannonau. 41 gradi. Va bene? Leggera. Cresca. È proprio il posto giusto, per l'estate giusto. Ma siamo in montagna. Sì, ma ci sono 40 gradi. 41, andiamo a 81. Allora, è a posto. Allora, stiamo. Rita, è in frigo. Ti ho detto di non prendere il mirto che se l'ha già bevuto tutto in due volte che l'ho incontrato. Rita, io preferirei il mirto. Poi cosa abbiamo? Poi, la grappa. Il nonno in ferro. Il nonno. Bravo. Ale, file verro. File verro. File verro. No, quella che fa il nonno, uno di noi. Il nonno, uno di noi. Uno di noi. Il nonno, uno di noi. Allora, io assaggio tutti e tre. Tutti e tre. Tutti e tre. Io per avere il paragone. Un pochino di tutti e tre. Un pochino. Spizzicò anch'io una goccia di uno, una goccia dell'altro. Ma le dose le fa lui, però. Ma ti sei cambiato la maglietta. E per forza una me l'hai bruciata, me l'hai grigliata. Ma vabbè, uno ti può invitare a una grigliata e grigliarti la maglietta, incredibile. I che era la tua preferita. No. Sì, me l'ha detto tuo amore. Eh, lo so. Era una delle due. Ma cosa vuolete lui? No, grazie. Quanto me l'hai messo? Sì, ma se doveste mai incontrarlo in viaggio, Roberto. E schivatelo. Che maledetto. Spegnete le GoPro. E mettete da parte anche le bottiglie, soprattutto. E il coltello. Pranzo finito, ho ritirato tutto perché sta arrivando un temporale, però ci facciamo una passeggiata. e andiamo a vedere il laghetto tutti assieme. Poi viene anche Davide, un ragazzo che lavora qua e ci segue. e poi magari stiamo insieme ancora un po'. Siamo pronti? Sì, vai. Andiamo. Cosa mi sono perso? Rita? Andiamo. 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 Andiamo, Rita. Sei un fuscello, Rita. Te l'ho detto io di mangiare di più. Arrivo. Però pesa. Ma hai 50 euro? Grazie, 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 buola. A me? Ti ho detto che... Tu mi sembra che gli hai buttato verda solo. No, no, mi ha buttato verda nessuno. Chi è che sta riprendendo? Larry, vieni qua, vieni qua. Vieni. Vieni qua, vieni. Oh, io che bellina. Devo avere un filo di fieno conficcato nella nuca che mi fa l'attività. Oh, che bellinetta, che scello. Allora, dopo questi 3-4 kg di acqua e vino e birra, un po' di relax. Che grigio. Sì, Davide, mi ricordi quando dicono la cena ti è rimasta tutto lo stomaco? No, no. Non solo la cena. Non solo la cena. Anche qualcosa. No, no, c'è, 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 c'è. Non ricordi come... Non ti ricordi come... Adesso è arrivato anche Davide a salutarci, ci beviamo una cosa qui al tavolo. Roberto dice che prima eravamo i tre nomadi, adesso siamo i dieci disgraziati. Però allegri, eh. Ci puoi contare, ci puoi contare. Ma di brutto. Allora, una tisana per Roberto. Adesso arrivo. Stai morendo di... Adesso prendiamo l'acqua. Allora ragazzi, ci beviamo un'altra cosettina analcolica. E ci mangiamo un tagliere di olive, prosciutto e un aperitivo. Con Davide, grazie. Va bene. Bevilo piano piano, Roby. Saluto a tutti i miei otto follower. Perché poi ci rimangono male. No, perché poi a Ferragosto non li hai ancora salutati. È vero, a Ferragosto non li ho ancora salutati. Però farai un video... Tutti i miei otto follower. Farai un video anche importante per questo... Ci sarà una collaborazione, perché il canale Camperadio, tra i nomi, diventerà Camperadio 10 Disgraziati. Quindi ci sarà una... Ci sarà allargato, ci sarà una collaborazione insieme. Ci sono delle novità che poi a Roby vi spero. Le vedremo, pian piano, pian piano. Grazie, grazie per la collaborazione. A un milione di fallo, ci penseremo. Cicchissimo. Ciccine, salute. E ancora buon fine Ferragosto a tutti. Ferragosto. Ogni volta che ho acceso la telecamera, Roberto stai bevendo. Io, eh? Sempre. È un caso, deve essere un caso, però. Ma è strano. Grande Roby. Mangi niente, cioè tutto secco, sembra Big Jim. È per quello che paga sempre. Ha pagato... È gentilissimo. Vabbè, comunque la finta l'hai fatta. Ma stai ancora con questa telecamera? Non mi ha mai niente, mamma mia. Lo vedi? Lo vedi con il portale? Sono una donna, poi. Scommetto che se lo apri, non c'è niente. Aprilo di fronte a tutti. Stai piacendo addosso quella di... C'è un po' più. Ce ne sono alcune che... C'è solo un paio di nidi. Ora, c'è stata la telecamera accesa, ma è tremendo quel ragazzo. Roby, se avessi tenuto la telecamera accesa per tutte le ore che siamo stati insieme, no, avessi fatto morire tutti. E ci siamo trattenuti perché anche Daniela si è... Veramente... Sincerata del fatto che dovevo stare tranquillo perché... Ma non c'è verso di levargliela questa GoPro, eh? Dagli un bacio sulle guance e ce ne andiamo. Mi raccomando, castro, però, eh. Ciao, Rita. Non ho male che ci sei in terra. Eh, tre. Tre, avevo detto uno. Un abbraccio, abbraccio, bacino. Un abbraccio a Davide. Oh, Davidino, Davidino, Davidino. Dì, oh, dì, di passare all'elba, papà, che vedi che... eh? Ci vediamo ancora. La quarta stagione. Quarta stagione. Ciao, amico. È stato un piacerissimo. Oh, è stato un piacerissimo, eh? Dai, però, ci rivediamo, magari tra dieci anni. Facciamo la seconda serie. La quarta, la quarta serie. Ragazzi, trovate sul canale la playlist tutta sua. Tutta mia, ok, perfetto. È come perdere follower, è incredibile. Adesso vediamo. Faccio uscire il primo video con te. Se va male, gli altri due non li pubblicano. Eh, beh, certo, ma io penso che sia meglio che non pubblichi neanche il primo. Comunque, va bene. No, io pubblicalo. Eh, fanno e metà, esatto. Faccio vedere gli sfuggiti. Come se non fossi manco con noi. Passi, sì. Uno che è un drogato che passava di lì. Non lo conosciamo. Aveva sete. Mai visto, è una persona tremenda. Ma che roba. Li saluti tutti i nostri follower. Siamo mangiati 47 minuti. Amore, i suoi sono tanti. I nostri sono 8, ci mettiamo un attimo. I suoi loro non ne hanno tanti. I nostri 8 o 2 secondi li abbiamo salutati. Dai, con la manina e basta. Un saluto a tutti. Ciao, ciao, ciao. Grazie. Mi rida un bel bacino. Grazie. E ricordati, non smettere mai di mangiare pomodoro. Come si chiama? Ciao, Roby. Si chiama il tuo sito? Grazie di tutto. È stato piacere. 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 Adesso si iscrivono tutti. Ancora stai registrando? Ma spegni questa cosa qua. Si iscrivono tutti al tuo canale. Local Guide? Local Guide. Auto Follower? Oh, hai visto? Gli ho detto, sono andato a pagare. Sono Local Guide. Gratis. Tutto a posto. Certo, ha pagato da. Adesso ti uscirà il messaggio di Google che ti chiede come ti sei trovato al banca. E tu gli dici, mi chiede, addio. Non ho manco pagato. Non ho pagato niente. È meglio di così. 5 stelle. Il problema è che c'hanno i bicchieri storti, è quello che non si riesce a bere. 5 stelle. 5 stelle. E salutali anche tu a questo punto. Il follow è bellino. Noi abbiamo parlato con i nostri otto. Ciao. Ciao. Ci vediamo tra una settimana. Così facciamo la quarta settimana di fine. Ciao. E facciamo ogni settimana una reunion. E mi raccomando, quando trovi un coltello, compramelo. Pazzesco. Penso io. Hai capito? Mi ha fatto lo scherzo. Mi ha fatto calpesterga. Noi ti mi ammazzavo. Ciao ragazzi. Ciao. 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 Buongiorno, amici. Buongiorno. Oggi vi salutiamo a metà mattina, non alle colazioni. Sono le 10.30. Ci stiamo per spostare. Questo parcheggio ci ha regalato due belle giornate. Ieri fantastica, super divertente. Roberto simpatia allo stato puro. Non ho potuto filmare tutta la giornata. L'ho detto, avrei dovuto registrare tutta la giornata. Avreste risa a lacrime, come abbiamo fatto noi. Ci spostiamo 10 minuti più in alto ancora e verso il Cervino, lo stesso 8 km di stradine, di montagne, curve. Metti in moto, abbiamo già fatto tutto e partiamo. Si parte. Si parte, cambiamo spot, mi faccio su, che c'è un'altra area a sosta, carico e scarico, quindi poi mi faccio barba, capelli, docce, ci riordiniamo un attimo. Sì, ci facciamo la cassetta e ce ne andiamo. Abbiamo già cambiato idea. Saliamo in un parcheggio proprio sotto il Cervino, 47 minuti, 31 km. Svolta a sinistra e prendi SR42. Rimaniamo qualche giorno e poi... E poi ragazzi c'è una sorpresa, ma logicamente non ve l'anticipo. Una bella sorpresa. Abbiamo trovato un distributore di benzina, abbiamo fatto il pieno così se dovesse non esserci la corrente. Noi abbiamo bisogno del cinesino che paga soli. Adesso 27 minuti dopo il rifornimento, 17 km e ci parcheggiiamo. Proprio sotto il Cervino, sotto il Monte Cervino. Benvenuti a Buisson, grazie. Insieme al Benvenuti c'erano le foto delle galline, magari ci sono galline buone in questo paese. Qua c'è un bel laghetto e c'erano anche dei bei parcheggi sull'erba proprio di fronte al lago, ma noi vogliamo salire un po' più su. Vediamo, vediamo cosa ci riserva più in alto. Adesso si sale di brutto, 8 km in salita ripida, ci portano a 2000 e rotti, credo. Dove abbiamo... dove ci sono le piste da sci. Abbiamo conosciuto Davide, l'istruttore, o comunque lavora lì nelle funivie che lo incontreremo di nuovo in questi giorni. Guardate che bel paesino questo, guardate, Rita, guarda che meraviglia. Siamo finiti nuovamente in un paradiso. Addirittura neve, fiumi, boschi paurosi, qua sotto c'erano delle grotte anche, un ristorante. Quindi amici, siamo arrivati sotto il Monte Cervino, è l'una, quindi pranziamo, è tutto pronto, abbiamo un sacco di avanzi da ieri, Rita sta scaldando di tutto. Poi dopo pranzo ci facciamo subito il pieno e i serbatoi perché non ne abbiamo. Il parcheggio è 7 euro al giorno con carico e scarico, zero corrente. Il posto è fenomenale, non ve l'ho ancora fatto vedere. Pranzo e poi come scendiamo per caricare l'acqua vi faccio vedere. È strapieno di camper, questo non ci piace, però vedremo. Il pranzo è figo, appetitoso, pasta al forno, un sacco di avanzi. Stiamo scaldando un po' di tutto, è avanzata anche carne, da ieri che buona. Oggi è ancora più buona, di sicuro. Bene, buon appetito. Poi abbiamo anche dei vini fantastici aperti ieri e neanche bevuti perché abbiamo bevuto birra, abbiamo bevuto di tutto. Questo è un Barbera d'Alba, ragazzi. Quindi buon pranzo a tutti e ci vediamo di pomeriggio. Buon pranzo. Buon pranzo da donne. Quattro del pomeriggio, riposino fatto, si vede la faccia, sonnatissimo, non me la sono neanche lavata. Adesso sto andando per caricare. Buon giorno. Stiamo andando a caricare l'acqua perché Rita non ha potuto fare neanche i piatti. E adesso ci carichiamo i nostri tre serbato due, due perché siamo qui. Ragazzi, vi voglio presentare una famiglia che ho conosciuto adesso mentre venivo a fare carico e scarico. Ivrea. Come vi chiamate? Roberto. Stefania e Simona. Un piacere avervi conosciuto. Anche per noi. Complimenti, amico. E grazie. Aspettate, c'è un altro membro della famiglia. È vero, lo facciamo vedere. Eccolo qua. E con chi poteva essere? E con Dado. Sì. Che bellino subito col musetto a venire a salutare. Vero, ciao. Dai, Charlie, diventi famoso. Operatore Dado. Al carico dell'acqua. La bella famiglia che ho conosciuto adesso mi hanno consigliato di visitare determinate cose che faremo in questi giorni. Si mangia anche una discreta pizza, Dado. Buono. Ci andiamo, papi. Ci andiamo, Dado. Monte Cervino. Guarda che bello. In alto a sinistra c'è scritto. Eia, lo sto guardando. Ho la testa chinata verso il lago, vedi? Sì. Ah, sei tu quello della roccia. Eh no, non mi avevi riconosciuto. Eh no. Bisogna scoprire quanto è alto il Monte Cervino. Sì, è vero. Non so quanto sia alto, ma adesso te lo dico. Ragazzi, appena fatto una ricerca, il Monte Cervino è alto 4.478 metri. Tanta roba. Questo qui, guardate. Credo sia quella vetta laggiù. Eh, penso di sì. Quella che è mezzo coperta dalle nuvole. Bello. Saliamo in cima. Saliamo in cima con un materasso, mettiamo il materasso sotto di noi e ci buttiamo. Sì. Da 4.478. Anche con una busta di quella della spesa le tieni dai due mani. Sì, su tipo paracadute. Ma il materasso è più efficiente. Sì, su tipo paracadute.